Il centro covid di Agropoli è completato, è ultimato, cioè dobbiamo fare, pigliare la banda musicale, deve venire qualcuno qua e dire il covid, il covid è completato, grazie a Dio, non ci sono positivi, non ci sono ammalati di covid-19, il centro è ultimato, sono arrivate tutte le attrezzature, sono stati spesi i soldi e il centro è ultimato, quindi questa è l'informazione corretta. Che cosa è positivo? Che all'ospedale di Agropoli oggi c'è anche la rianimazione. A ritornare sulle mancate risposte per quanto riguarda il rientro nella rete dell'emergenza del presidio ospedaliero agropolese è il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, in diretta su Cilento Channel nella serata di ieri. Alfieri ha risposto anche a tutte le critiche ricevute garantendo la certa apertura del presidio. Per chi si agita e ovviamente ne fa sempre soltanto una battaglia di tipo politico-personale e personale-politico, la rianimazione che non c'era e non era prevista oggi c'è ad Agropoli e la rianimazione servirà anche alle tre sale operatorie che sono state non soltanto completate ma sono anche state attrezzate e che dovranno essere queste sì aperte e l'animazione servirà anche per i dieci posti di oncologia che sono stati anche destinati ad Agropoli e alla lungoteggenza. Poi vedo che scendono in campo perché nonostante mancano due anni alle elezioni comunali di Agropoli è chiaro che è diventato come sempre l'unico argomento che si sventola per fare politica. qualcuno si sveglia la mattina e parla dell'ospedale e si dimenticano sempre di quello che è stata la storia dell'ospedale di Agropoli ma si sono dimenticati chi l'ha chiuso l'ospedale di Agropoli, quale parte politica l'ha chiuso nel 2013 e quando oggi c'è già una struttura che non è quella del 2013 perché nel 2013 ad Agropoli è stato chiuso tutto, ci chiusero anche il laboratorio di analisi, anche la radiologia e se le 11.000-12.000 prestazioni che oggi l'ospedale di Agropoli che qualcuno dice che è chiuso, che comunque sono 11-12.000 prestazioni che se non ci fosse oggi l'ospedale così com'è che ovviamente sono io il primo che non sono soddisfatto e quando qualcuno mi chiama, mi telefona, la gente se la prende con te e qualcuno dice che io mi sono venduto l'ospedale di Agropoli, voglio dire a questi amici, io sono sindaco di Capaccio Pesto ma oggi sono stato sindaco di Agropoli per 10 anni, io vivo a Torchiara, ho i miei figli a Torchiara, ho i miei genitori di 82-81 anni a Torchiara, il mio ospedale, il mio ospedale è quello di Agropoli, quindi io più di tutti e come tutti voglio che l'ospedale di riferimento del mio territorio sia efficiente, sia aperto, quindi quando mi fanno ste critiche che me lo sono venduto, che l'ho barattato, ma l'ho barattato per che cosa? Io dopo 35 anni ancora faccio il sindaco. L'ex primo cittadino agropolese, infatti, il prossimo lunedì, ha in programma un incontro con il direttore generale dell'Asala Salerno, Mario Ierbolino, in cui si avranno importanti risposte sul futuro dell'ospedale civile. Ribadisco che Agropoli e nella programmazione ospedaliera dell'Asala è stato speso più di un milione di euro, De Luca, che non nomina il nostro ospedale, non mi preoccupa. Penso alla sostanza, non metto proprio in preventivo che ci possa essere una risposta negativa, perché una regione campania è un ASL che investe centinaia di migliaia di euro, fa lavori, anzi spende quasi un milione di euro tra le sale operatorie e l'animazione vuol dire che fa queste cose e le tiene chiuse nei locali, vuol dire che compie sprechi, non solo sono sprechi, sono anche reati penali e quindi io sono dell'avviso che le risposte possono essere soltanto positive. L'Asala ha avuto contributi anche da privati che sono state spese, le attrezzature sono nell'ospedale di Agropoli, Adamo Coppola ha anche spiegato e ha fatto vedere, deviso il materiale e le attrezzature che sono arrivati, manca qualche medico, ma non parliamo di decine o di centinaia di me, manca qualche unità, manca qualche anestesista, qualche radiologo e queste sono le cose che mancano, che faranno cambiare di passo l'ospedale di Agropoli. Quindi per me non esiste la risposta negativa, mi auguro soltanto che il direttore generale mi possa dare con certezza una data e spero che questa data la possa io riferire innanzitutto agli amici amministratori, in primis il sindaco di Agropoli, i sindaci dell'Unione dei Comuni, per dare certezza e speranza e soprattutto per chiudere la bocca a questi ciarlatani che non fanno altro che dire soltanto fesserie e bugie e fare campagna elettorale sull'ospedale non potendo dire altro. Sono noto per la parola, però quello che voglio dire è questo allarmismo, questo approccio sbagliato di essere in ansia perché non si apre il Covid, il Covid è stato programmato, i lavori sono stati fatti, non si apre perché per grazia di Dio non ci sono ammalati, quindi non dobbiamo avere quest'ansia di aprire il Covid, dobbiamo essere invece ansiosi di aprire altre cose e il Covid ci ha dato una grande occasione oggi di avere la rianimazione nell'ospedale di Agropoli che ci consentirà di rafforzare gli altri servizi, pronto soccorso, sale operatori, oncologie di Cipoli, quindi stiamo facendo passi da gigante alla faccia di chi vorrebbe che l'ospedale di Agropoli non si apra mai perché non vogliono che si apra, se no finisce e si chiude il sipare sulla campagna elettorale e quindi l'ospedale di Agropoli si aprirà, avremo un ospedale che ci dirà servizi, faremo sul territorio una rete di ospedali che ci auguriamo ci dia la dignità del diritto alla salute come tutti i cittadini italiani e quindi noi lavoreremo per questo, quindi martedì ci sarò e spero di portare buone notizie.